Signori, shalom, buonasera, grazie di esservi di nuovo collegati. Cominciamo lo studio del secondo capitolo dei Pirkei Avot, che abbiamo letto questo Shabbat, avvalendoci del commento di Rabbi Zechariah Davide Segre di Vercelli, pubblicato alcuni anni fa. La prima massima del secondo capitolo comincia dicendo «Rabbi אומר, ezוהי דרך ישרה שיבואו לא האדם, כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לא מן האדם. והבא זאיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שחרן של מצוות. והבא מחשב הפסד מצווה כנגד שחרה, וסחר עבירה כנגד הפסדה. הסתכל בשלושה דברים, והן אתה בא לידי עבירה. דה מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וחלמה עסקה בספר נחתבים. Nella traduzione italiana, Rabbi, che è Rabbi Yehudana, sì, il redattore della Mishnah, chiamato il Rabbi per eccellenza, affermava «qual è la retta via che l'uomo deve scegliere, quella che conferisca onore a chi la persegue e gli procuri onore anche da parte degli uomini». Su questo ci sono due diverse interpretazioni di quest'ultima frase. può significare che procuri onore a Lui non soltanto di fronte a se stesso, ma anche di fronte agli altri uomini, ma quegli procuri onore può anche essere riferito a Dio, cioè una via tale da procurare onore non solo a chi la persegue, ma anche a Dio attraverso gli uomini che appunto si dedicano a questa. Stai bene attento alle prescrizioni facili come a quelle che nel loro adempimento richiedono un maggiore impegno, perché tu non conosci la ricompensa di ogni comandamento. La Torah ci ha rivelato le punizioni di molte trasgressioni, cioè dell'infrazione dei divieti, ma non ci rivela, se non in pochissimi casi, qual è il premio che compete a coloro che adempiono agli obblighi. E questo perché se l'avesse fatto e avessimo potuto fare una classificazione, ci saremmo dedicati tutti quanti ai precetti che fruttano di più, evidentemente, tralasciando gli altri. E non era questa l'intenzione del Santo Benedetto. Perciò ha tenuto per sé la valorizzazione delle varie mitzvot, riservandosi poi al momento buono di darci la giusta ricompensa per ciascuna senza rivelarcela in anticipo. Considera pure il danno procurato dall'osservanza di un precetto di fronte al vantaggio che deriva dal suo adempimento. Considera il vantaggio di una trasgressione di fronte al danno che quella arreca. La interpretazione che di solito diamo di questo insegnamento è considera il danno materiale, la perdita che ti deriva dall'osservare una certa mitzvah, per esempio osservare lo shabbat e non andare al lavoro nella stessa giornata, per esempio, di fronte al vantaggio spirituale che deriva dall'adempimento della mitzvah stessa. E all'inverso, considera il vantaggio materiale che ti deriva da una trasgressione, qualora per l'appunto tu lavorassi di shabbat, per esempio, di fronte al danno spirituale che la trasgressione stessa arreca. Questa è una possibile interpretazione. Davide Zecharia segue di Vercelli ne suggerisce un'altra, e cioè dice che sia vantaggio che danno si riferiscono all'osservanza delle mitzvot in un modo o nell'altro, e cioè ci possiamo trovare di fronte a situazioni nelle quali dobbiamo scegliere fra una mitzvah e un'altra. Per esempio, un Kohen che debba recuperare un oggetto smarrito per compiere la mitzvah di restituirlo. Nel momento in cui questo oggetto si trova, per esempio, dentro un cimitero nel quale ha la proibizione di entrare, ecco che si trova di fronte a dover scegliere fra un obbligo e un divieto. A quale dei due evidentemente si deve dare maggiore appoggio? Questo dipende dalle varie situazioni. Vi sono dei casi, appunto, in cui può essere opportuno astenersi da un'azione ancorché comandata. Per esempio, una persona anziana può decidere di astenersi dall'obbligo di restituire un oggetto smarrito se ciò compromette in qualche modo la sua dignità, o nel caso del Kohen di cui abbiamo parlato, se questo comporta dover entrare nel cimitero. La Mishnà ci introduce qui nel campo assai complesso delle precedenze nell'adempimento dei precetti. Secondo questa interpretazione, il termine Mishnà allude all'osservanza dei precetti affermativi mentre averà trasgressione a quella dei divieti. In pratica, Rabbici insegna che prima di intraprendere qualsiasi azione dobbiamo valutare la perdita che deriverebbe in termini di ottemperanza a un obbligo qualora ce ne asteniamo in rapporto al vantaggio che potrebbe derivare dalla stensione medesima nel fatto di non infrangere un divieto. Nel suo insieme, il paragrafo ci insegna che l'unico criterio valido per decidere a srastenerci da un'azione meritoria non sta nel calcolarne l'importanza o il valore relativo in rapporto ad altri meriti, bensì soltanto nel verificare che non comporti un'infrazione. È il concetto di Mitzvah Ba'aba'averah, precetto ottemperato attraverso un divieto, al quale è appunto preferibile la stensione. Un esempio che noi troviamo nella Mishnah stessa e nel trattato Sukkah è quello del divieto di utilizzare un lulav rubato per esempio e di adoperare nella cerimonia di purificazione dell'ebroso un uccello madre carpita mentre accudisce ai suoi piccoli nel nido contro il divieto della Torah. Di questo si è parlato la vigilia di Pesach in conclusione del trattato La purificazione dell'ebroso è infatti una Mitzvah in quanto gli permette di riprendere i rapporti coniugali e quindi di riguadagnare la pace familiare. Ebbene il perseguimento dell'armonia fra esseri umani non può per ragione alcuna passare attraverso sofferenze inflitte ad animali come la questione del nido di cui abbiamo parlato. Infine questa Mishnah si conclude dicendo rifletti sopra tre cose e non ti troverai in condizione di commettere peccato. Sappi che cosa c'è sopra di te un occhio che vede un orecchio che ode e il fatto che tutte le tue azioni vengano registrate in un libro. Scrive a questo proposito Segre le iniziali di sappi chi c'è sopra di te da male ma la mimach formano la parola melamed che significa insegnante. Sappi che il Santo Benedetto è il tuo insegnante come è detto io sono il Signore tuo Dio che ti insegna per il tuo giovamento e ti guida nella strada in cui vai e lo scolaro ha timore di peccare dinanzi al proprio insegnante il quale attenzione riempie tutta la terra perché parliamo di Dio e i suoi occhi la esplorano tutta come dice un versetto del primo capitolo di Giobbe un occhio che vede appunto Kadosh Baruch Hu vede tutto tanto il male che il bene non dobbiamo pensare che il Santo Benedetto abbia lo sguardo puro tanto da non vedere il male o chiuda gli occhi per non vedere il male perché invece vede sia il bene che il male le due iniziali di un occhio che vede invertite formano la parola che significa appunto male è un orecchio che ascolta tanto il bene che il male e non pensare anche qui che Dio ottunda il suo orecchio per non udire il male perché invece Dio ascolta tutto le due iniziali formano qui la parola es nel senso che Dio ascolta la Torah che è stata paragonata al fuoco come è detto in vero la mia parola è come fuoco e così si insegna più avanti riscaldati al fuoco dei sapienti perché tutte le loro parole sono come braci di fuoco infine tutte le tue azioni vengono registrate in un libro nel libro dei giusti in quello dei malvagi oppure in quello dei benoniim dei mediocri la seconda Mishnah dice Rabbam Gamliel Benosel Rabbi Uda Nasi Omer Yipè Tlalmud Tora In Dere Heretz She Yigiat She Nihem Meshkak At Avon Vakul Tora She Nihmah Malakha Sopha B'Tela Vagor Avon Vakul Aamalim In Hacibur Yuh Aamalim Ima Meshem Lishem Shamiin Shes Zichut Avotam Meshayatam Vezidiketam Omedet L'ad Vata Mala Ani Alichem Shachar Arbe Kailu Asitem State attenti Raban Gamliel Figlio di Rabi Udana Si soleva dire E' bello lo studio della Torah Accompagnato da un'attività produttiva Perché l'impegno in entrambi Ci fa dimenticare il peccato Mentre ogni studio di Torah Che non sia affiancato da un lavoro Finisce per annullarsi E porta con sé la trasgressione Tutti coloro che si occupano degli affari pubblici Lo facciano in nome del cielo Perché in tal modo il merito dei loro padri li assiste E la loro rettitudine perdura in eterno E quanto a voi che vi dedicate al bene pubblico Moltiplicherò la vostra ricompensa Come se aveste eseguito anche i precetti Che il vostro impegno pubblico vi ha costretto a trascurare Scrive Segre che il Chidà di Livorno Il grande Rabbi Haim Yosef Davida Zulai Nel suo libro Hasde Avot Scrive che mentre la persona è impegnata nel suo lavoro Deve comunque costantemente pensare alla Torah Anche se essa ci protegge e ci salva Sia quando la studiamo Sia quando non la studiamo E pertanto l'istinto del male Non ci può fare inciampare Questo ci procura turbamento nel pensiero Ma come dice la Mishnah L'impegno in entrambi ci fa dimenticare il peccato E' interessante che lo sforno capovolge Nel suo commento questo testo In un certo senso E sostiene che non si riferisce Agli studiosi di Torah Affinché alternino il lavoro allo studio Ma si riferisce a coloro che sono soprattutto impegnati nel lavoro Ricorda loro che E' opportuno che ci sia anche dello studio della Torah Mentre si lavora E' quanto affermava il re Salomone Conoscilo in tutte le tue vie Dice un versetto dei proverbi Ed egli raddrizzerà le tue strade Dove le tue vie sono le tue azioni Ed egli raddrizzerà le tue strade affinché tu non pecchi I maestri hanno spiegato Conoscilo in tutte le tue vie Persino nella trasgressione E nelle attività fisiche Come mangiare, bere, passeggiare E anche durante il commercio e il lavoro E così quando procedi Essa ti guida In questo mondo Cioè persino durante il commercio e il lavoro La terza Mishnah dice State attenti all'autorità governativa Perché non si accosta alla persona Se non quando ne ha bisogno per sé Sembrano amici quando fa loro comodo Ma poi non assistono l'uomo nella sua distretta State attenti dunque all'autorità Qui si riferisce evidentemente all'autorità dell'impero romano Che non era particolarmente amichevole nei confronti di non ebrei Però, diciamo, entro certi limiti Possiamo applicare questa Mishnah a qualsiasi epoca E a qualsiasi luogo Le tre iniziali Evu, Zehirin, Barashut Formano la parola Zahav Che significa oro La Mishnah vuole alludere al fatto Che l'autorità si accosta al cittadino Soltanto quando ha bisogno E, come dice il saggio Così scrive Segre nel suo commento L'oro libera L'oro lega L'oro semina L'oro raccoglie Insomma, quello che conta per loro è Il guadagno materiale Quanto alle finali della stessa espressione Esse danno il vocabolo tenu Che significa date Per alludere al fatto Che l'autorità sollecita spesso Il pagamento delle tasse per sé E per le guerre E se volete a vostra volta accostarvi ad essa Vi dice tenu zahav Date oro Pagate e avrete quello che desiderate Non pensare Aggiunge Segre Che quando anche l'autorità si accosta al cittadino Ne derivi un beneficio per la collettività O comunque per più persone Se avvicinano una persona O lo fanno per sé O lo fanno per lui personalmente Ed esclusivamente Ma non per gli altri È un giudizio molto forte Molto negativo Nei confronti della pubblica autorità Più che le doti morali di una persona Ad essi interessa la ricchezza Per questo il testo elimina l'articolo Non dice Che significherebbe Perché non si accosta A quella singola persona Se non quando ne ha bisogno per sé Ma è punteggiato Perché non si accostano A qualsiasi persona Indefinito Se non quando ne ha bisogno per sé Per sottolineare Che non si tratta necessariamente Della persona per antonomasia Cioè La persona degna con l'articolo davanti Ma poi Non assistono l'uomo Nella sua distretta Cioè Commenta Segre Dopo che si sono presi Ciò di cui avevano bisogno per sé Non assistono neppure Quella persona Se viene a trovarsi Indistretta Questa Mishnah È il seguito Della precedente Nell'ultimo punto Abbiamo tradotto Quanto a voi Che vi dedicate Al bene pubblico Moltiplicherò La vostra ricompensa Come se aveste eseguito Anche i precetti Che il vostro impegno pubblico Vi ha costretto A trascurare Ebbene Lo sforno Nel suo commento Dice Che qui si riferisce Appunto Ai rappresentanti Della comunità Nel loro sforzo Di ottenere Dei benefici Per la comunità Stessa Da parte Dell'autorità statale È quel fenomeno Che si chiama Istadlut O Istadlanut Che può non dare risultati E quindi La Mishnah ci dice Tranquillizza I consiglieri Della comunità I presidenti Della comunità Impegnati Nelle relazioni Con l'esterno Dicendo loro State tranquilli Anche se non sortite Il risultato Che sperate Io considero Il merito Dell'azione Che intraprendete Come se l'aveste Ottenuto Proprio perché L'autorità È così difficile È così difficile Da ammanzire Passiamo a questo punto Alla Mishnah Alla Mishnah Dalet Alla Mishnah 4 Alla Mishnah 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 Di questa Mishnah Si può dare Un'interpretazione Di carattere filosofico E cioè Nel pensiero occidentale Abbiamo due forme Di derivazione Della norma Abbiamo Quella che si chiama In filosofia Autonomia Cioè La norma deriva Dalla Dall'intelletto umano Dalla capacità Dell'uomo Di gestire Interamente Le sue relazioni A fronte di questo Abbiamo un altro sistema Che È chiamato In filosofia Eteronomia Cioè L'uomo Non è in grado Da solo Di autogestirsi Per questo E ha bisogno Dell'espressione Di una volontà superiore È chiaro Che le religioni Rivelate Appartengono A questo sistema In quanto Ritengono Che la fonte Della legge Sia celeste La legge Deriva Da una rivelazione Della divinità A differenza Invece Delle principali Correnti filosofiche Che sono invece Autonomistiche Cioè Privilegiano La capacità Dell'intelletto umano Di elaborare Da solo Queste Queste leggi Queste normative Di carattere morale E sociale Come la pensa L'ebraismo Da questo punto di vista Sembrerebbe Il tutto Potersi Riassumere Proprio In questo Insegnamento Fai che la tua Autonomia Coincida Con l'eteronomia Fai che la tua Volontà Coincida Con la sua E in questo modo Si riesce Evidentemente Ad ottenere Il massimo Dello scopo Ed infatti La tradizione Ebraica Ha un'impostazione Di questo tipo Noi riteniamo Che certamente La Torah È rivelata Dal cielo Ma nello stesso Tempo Noi dobbiamo Mettere in atto Le nostre capacità Intellettuali Per studiarla E per capire E per capire Infino in fondo Che cosa Kadosh Baruch Ci domanda Di fare Questa è una caratteristica Della tradizione Ebraica Quella di non far Dipendere tutto Da un mistero Religioso Ma viceversa Da un'analisi Dei testi Di questi testi All'origine Erano certamente Rivelati Da Kadosh Baruch Però l'analisi È tutta Data All'intelletto umano È tutta consegnata All'uomo Che deve elaborare I risultati Di questo lavoro Di questo lavoro Per capire E mettere in pratica Ciò che Kadosh Baruch Desidera da noi Questa è Direi La spiegazione Diciamo così Di carattere filosofico Cosa dice A questo proposito Il nostro segre Il nostro segre Propone un'altra lettura Di questa prima parte Della quarta Mishnah C'è un'altra versione Scrive Assai più corretta Secondo lui Che dice Fa la sua volontà In quanto sua volontà Affinché egli Esegua la tua volontà In quanto tua volontà Egli in ebraico Legge così A se re zonò Kir zonò Che desce A se re zonach Kir zonach Fa la sua volontà Conformemente alla sua volontà Significa studiare Torah Senza secondi fini E osservarne i precetti Con riverenza E piena intenzione Mentre tale versione Non si presta a obiezioni Continua segre Quella più comune Che ho spiegato prima Sì Cosa avviene? Domanda se esegue La volontà di Dio Nella preghiera In conformità Con la volontà umana E cioè Senza concentrazione Immerso Nei pensieri Più estranei O se esegue La volontà divina Nella beneficenza Secondo la volontà Dell'uomo E cioè Con malanimo E crudeltà E farà la tua volontà Conformemente alla tua Significa Che Adempirà A tutti i tuoi desideri In modo completo E non per metà Se ad esempio Tua moglie è incinta E tuoi che abbia Un maschio Sia sano E cresca Nella moralità E nella sapienza Se essa abortisce O il bimbo muore Appena nato Non è evidentemente Farà la tua volontà Secondo la tua volontà Cioè Esattamente Come la vuoi Fa la sua volontà Come egli la vuole Affinché Egli faccia la tua Come tu la vuoi Corrisponde Al versetto Di Shelomò Che dice Conoscilo In tutte le tue vie Ed egli raddrizzerà Le tue strade Un versetto Che abbiamo citato Prima A proposito Di un altro Di un altro Di un altro passo Le iniziali Di Conoscilo In tutte le sue vie Behol De rachecha Da eu Bet Dalet Dalet Formano la parola Badad Che significa Solitario È un termine Purtroppo Molto attuale In questi giorni Perché la cosa migliore Dice Segre Per tenersi lontano Da ogni trasgressione È Starsene lontano Come dice il verso È un verso di Echa che dice Siederà solitario In silenzio Perché ha ricevuto Su di sé Un flusso Dall'alto La seconda parte Della Mishnah Dice Segre È corretta Annulla la tua volontà Dinanzi alla sua Affinché egli annulli La volontà degli altri Dinanzi alla tua Spiega Segre In maniera molto cruda Annulla la tua volontà Di trascorrere le notate A divertirti Nei teatri O al ballo Di fronte Alla sua volontà Di dedicarti Allo studio Della Torah Senza secondi fini Affinché annulli La volontà degli altri Di fronte Alla tua E quanto A chi ti vuol male Annullerà i suoi propositi E piegherà la sua volontà Alla tua Perché Se Dio gradisce La condotta Di un uomo Gli rappacificherà Anche i suoi nemici La seconda L'ultima parte Di questa Di questa Eccolo qua Tornato il testo Benissimo La seconda parte Forse qua Forse qua Eccolo qua Troviamo La seconda parte Di questa Mishnadice A nome di Hillel Non ti separare Dalla collettività Questo è un concetto Estremamente importante Bisogna Avere La sensibilità Di partecipare Alla disgrazia altrui Persino Moshe Rabbenu Mentre il popolo Combatteva contro Amalek Si fece portare Come è noto Sulla sommità Di una collina E Resse Le braccia Verso l'alto In maniera Da ispirare La fiducia in Dio Da parte del popolo E Non riuscendo Per l'età A tenere le braccia Elevate per tutto il tempo Si fece Aiutare da Aaron e Hur I nostri maestri Imparano da questo Che evidentemente Moshe Rabbenu Non mangiò Avendo le braccia impegnate Tutta la giornata Non portò Scibo alla bocca E questa fu da parte sua Una partecipazione Di qualche modo In qualche modo Alla sofferenza Della collettività Che stava combattendo In quel momento Per quelle che possano Essere le nostre Le nostre capacità Evidentemente Dobbiamo partecipare Alla Alle Ai problemi Della Della comunità Non aver fiducia In te stesso Fino al giorno Della tua morte Questo ha anche Un insegnamento Importante Al quale segue Non giudicare Il compagno Fino a che Pure tu Non ti troverai Al suo posto Anche questo È un concetto Molto 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 interessante Il Meiri Commentando questa Questa Mishnah Questa frase Dice Prima di giudicare La persona Devi andare A vedere Dove abita Il suo posto Si intende Qui la sua abitazione Andare a conoscere Il suo indirizzo Vedere Quali sono Le circostanze Della sua vita Solo dopo Che avremo capito Dove e come Questa persona vive Solo allora Potremo giudicare E capire Perché si comporta In un certo modo Piuttosto che Piuttosto che In un altro Ad shetaghi alim komo Fino in ebraico Fino a che Non arrivi Al posto In cui abita Ci sono persone Che Non hanno avuto Pari opportunità Rispetto a noi In molte cose E quindi magari Non hanno potuto Partecipare Dello stesso tipo Di educazione Della stessa levatura E quindi Noi non possiamo Giudicarle Fino in fondo Finché non abbiamo Non avremo Interiorizzato E capito L'esistenza Di queste differenze Evidentemente E soltanto A loro potremo Farci una ragione Della differenza Delle loro scelte Rispetto alle nostre Non pensare Di nessuna cosa Che sia impossibile Udirla Perché alla fine Verrà udita Questo Nell'era di Internet In particolare È un insegnamento Estremamente importante Potremo Tralurla Al giorno d'oggi Nel modo seguente Sta attento A non girare Ad altre persone Un messaggio Che hai ricevuto Senza renderti conto Di tutti i progressi Che ci possono essere In calce Al messaggio stesso Perché potresti finire Per divulgare Delle cose Che non vanno divulgate O far conoscere A questa persona Magari un giudizio Nei suoi confronti Che non sarebbe Stato opportuno Che leggesse Non dire studierò Quando avrò tempo Forse Non ne avrai Il tempo Studiare Bisogna studiare Subito Senza rimandare Senza Por tempo In mezzo E qui per studio Naturalmente Si intende Essenzialmente Lo studio Della Torah Se hai la possibilità Di studiare Torah Se hai 5 minuti Anche soltanto Per farlo Utilizza questi 5 minuti Per lo studio È quello che si chiama Nel linguaggio Dei nostri Chachamim Stabilire un tempo fisso Per lo studio Ogni giorno A prescindere Da quello che è Il risultato concreto Dello studio Dal punto di vista Intellettuale Quello che conta È avere la testa Costantemente Ogni giorno Impegnata Nello studio Della Torah Vediamo a questo punto La Mishnah La Mishnah 5 Che dice Ci sono tante persone Che si dedicano Alla vita religiosa Non perché abbiano Una base culturale Per farlo Non perché abbiano studiato Ma semplicemente Per tradizione familiare Per esempio Ed è una bella cosa Per carità Mantenere le tradizioni È fondamentale Però Nessun motore Può continuare A funzionare A lungo Senza benzina E quindi Dobbiamo evidentemente Anche noi Impegnarci nello studio Perché lo studio È la benzina Dell'osservanza Evidentemente E temere il peccato Che è L'osservanza Dei divieti E diventare pio Che è l'osservanza Degli obblighi Sono due scelte possibili Solo nel momento In cui la persona Ha studiato E ha assunto consapevolezza Di quelli che sono I suoi doveri Il timido Non può imparare Né l'iracondo Può insegnare Nessuno deve vergognarsi Da allievo Di formulare domande Sullo studio Quando non capisce Perché Perché se uno Non fa così Temendo di passare Per stupido Alla fine Rimarrà ignorante Per sempre Non darà mai a se stesso La possibilità Di confrontarsi seriamente Con il suo insegnante E eventualmente Anche con i suoi compagni E quindi rimarrà sempre indietro D'altronde Se questo vale per il discepolo Per l'insegnante Vale il principio Di non essere troppo ricoroso Di non essere troppo Pretenzioso Nei confronti Dei suoi allievi Né chi si dedica Troppo al commercio Può diventare Un sapiente Di nuovo l'invito Ad alternare Le attività produttive Con lo studio Con lo studio Della Torah Non lasciandole Soltanto ai maestri E ai rabbini Ma anche evidentemente Coltivandole Nella propria persona Dove non vi sono uomini Cerca di essere uomo E anche questo È un insegnamento importante Ci sono molte situazioni In cui noi ci troviamo A dover prendere Degli Assumerci delle responsabilità O prenderci dei ruoli Che riteniamo superiori Alle nostre forze Semplicemente per il fatto Che non ci sono altri Migliori di noi A farlo È importante anche questo Lo sforno però Nel suo commento Ci avverte Anche dell'inverso Di questa frase Cioè Dove invece Gli uomini ci sono Dove invece sono presenti Dei talmidei Chachamim Più preparati di noi Allora in questo caso Dobbiamo Fare un passo indietro E lasciar fare A chi ne sa più di noi La Mishnah numero sei La Mishnah numero sei Dice Un bellissimo scioglilingua In questa Mishnah Ancora egli Vedendo un teschio Che galleggiava Sulla superficie Dell'acqua Così gli si rivolse Poiché tu Annegasti altri Fosti annegato Ma il destino Di chi ti annegò È essere Annegato A sua volta Cosa significa Tutto questo? Significa che Dobbiamo Che la violenza Funziona spesso A spirale E un atto Violento Ne alimenta Dopo di sé Molti altri Senza che possiamo Prevedere Evidentemente Quando questa spirale Avrà fine E quindi dobbiamo Stare molto attenti Alle nostre relazioni In qualsiasi momento Qui si parla Di una serie Di omicidi Quindi diciamo Di reati Particolarmente Gravi Avendo veduto Appunto un teschio Che galleggiava Sull'acqua Si immagina Che questo teschio Non essendo stato Sepolto Probabilmente Si riferisce Alla vittima Di un omicidio Poiché Quindi se sei stato ucciso Arguisce lo stesso autore Significa che Probabilmente In precedenza Avevi ucciso Tu stesso Poiché tu Annegasti Altri Fosti annegato E alla fine Coloro che Ricorrono Alla violenza Saranno vittime Della violenza Esse stesse Ed infine Arriviamo Alla Mishnah Numero 7 Che è una Mishnah Apparentemente Ripetitiva Adesso ho imparato Come si fa È una Mishnah Apparentemente Repetitiva Edice Ho haia Omer Marbe Mersar Marbe Rimma Marbe Nekasim Marbe D'agga Marbe Nשים Marbe Chishapim Marbe Shepachot Marbe Zimma Marbe Abadim Marbe Gazzel Marbe Torah Marbe Chaiim Marbe Yesivah Marbe Chokmah Marbe Egli diceva Ancora Chi Aumenta Carne Aumenta Vermi Chi accresce I propri Averi Accresce Anche La preoccupazione Chi ha Molte Mogli Riferito A una Società Poligamica Aumenta Le superstizioni Da parte Di queste Mogli Che Che brigano Per avere Il proprio Marito Solo Per sé Chi ha Molte Ancelle Aumenta La lussuria Chi ha Molti Servi Aumenta I furti Fin qui Si tratta Di Interessi Materiali Evidentemente Nei quali L'invito Dell'autore Della Mishnah È di non Indulgere Troppo Evidentemente Diverso Il caso Di chi Persegue Interessi Spirituali Chi Invece Aumenta La Torah Aumenta La vita Chi Si Dedica Molto A sedersi A studiare Magari Con i propri Discepoli Aumenta La sapienza Perché Le domande Che fanno I discepoli Sono La fonte Di ricchezza Intellettuale Più grande Per un maestro Chi Aumenta Il consiglio Aumenta L'intelligenza Chi Dà Molta Beneficenza Accresce La pace Perché Aumenta Diciamo Così L'interesse Per I problemi Della società E quindi La vicinanza Delle altre persone Se ha acquisito Un buon nome Lo ha acquisito Per se stesso Torna qui Il commento Di Segri Che dice Apparentemente Lo ha acquistato Anche per i suoi figli Come è scritto A proposito Di Abramo Poiché L'ho prescelto Affinché Dio ordina I suoi figli Alla sua casa Dopo di lui E osserveranno La via del Signore Di praticare Giustizia E carità E così pure Nei proverbi Il giusto procede Nella sua integrità Beati I suoi figli Dopo di lui In verità Il merito Rimane ai figli Come è scritto Il timore di Dio È un forte baluardo È una protezione Per i figli Ma il buon nome Attenzione Non è trasmissibile Ai figli Dal momento Che non tutti I virgulti Assomigliano All'albero E perciò Se ha acquistato Un buon nome Lo ha acquistato Per se stesso Inoltre La parola Shem Ha lo stesso La parola Shem Che significa nome Ha lo stesso Valore numerico Di Sefer Che significa libro 340 Se uno si è acquistato Fama Scrivendo un libro Di Torah L'ha acquistata Esclusivamente Per se stesso In quanto Autore Del libro E questo è un concetto Anche importante Effettivamente Non basta Trasmettere Gli insegnamenti Oralmente Questo è Senz'altro Il primo Il primo stadio Del quale Non possiamo Assolutamente Fare a meno Il rapporto Diretto Con i nostri E personale Con i nostri Talmidim Con i nostri Discepoli È fondamentale Per la trasmissione Della Torah E dei suoi valori Ma nello stesso Tempo Dobbiamo dedicare Dello sforzo E dell'energia Anche alla diffusione Della parola scritta Perché in questo modo Possiamo evidentemente Aumentare Di più In modo esponenziale La nostra audience Oggi esiste anche La possibilità Di trasmettere Gli insegnamenti Attraverso Questi sistemi Che sono appunto I sistemi online I computer Eccetera Benvengano A mio avviso Queste modalità Perché Ci consentono Di Far partecipi Del nostro studio Tante più persone Sia in diretta Che in differita Soprattutto Costringono Noi maestri A preparare Ogni volta Una lezione nuova Un tempo Quando questi mezzi Non c'erano Si poteva riproporre In un'altra comunità Una lezione Che avevamo già fatto Della nostra Oggi tutto questo Non è più possibile Perché nel momento In cui facciamo La lezione La nostra comunità La vedono Contemporaneamente Anche le altre E questo E questo È un modo Appunto Per essere Le Arbot Chuchmah Per moltiplicare La sapienza Della Torah Nel popolo di Israele Grazie a tutti E buona serata Grazie a tutti Grazie a tutti